come paragone il maestro dell'amore attraverso vanda 16 ottobre 2008 a cura di vb vorrei ora riferirmi all'albero come spesso faccio e vi chiedo quando guardate un albero cosa pensate io vi dico che l'albero non è semplicemente un albero ma è un segno della vita ed io lo uso sempre come paragone perché l'albero riesce a farvi comprendere come la vita nasca e si sviluppi man mano che passano le stagioni l'albero cresce salendo sempre più in alto e la sua energia diventa sempre più intensa perché nel suo cammino alla consapevolezza di esistere di realizzare il volere per cui è stato creato avviene ugualmente per una rosa o un fiore qualsiasi a proposito di fiori mi soffermo un momento perché vorrei raccogliere i vostri per saturarli di energia anche se ne sono già permeati vorrei donarvene di più per farli ingigantire nel vostro cuore donatemi i vostri fiori poneteli nelle mani dello strumento affinché possa ridonarveli splendenti di luce è un gesto simbolico che io ripeterò finché riuscirete a capire che in verità la vita non è come vi si presenta in questo momento è per questo motivo che ho preso i vostri fiori e ve li ho restituiti saturi di energia poiché la vostra è debole rispetto a quella che vi ho donato iscriviti al nostro canale